Il cristianesimo diede da bere veleno a Eros, esso non lo fece morire ma degenerare in vizio. Sono parole di Friedrich Nietzsche con le quali il filosofo tedesco accusa la fede cristiana di aver avvelenato l'Eros e di averlo reso sempre e comunque qualcosa di peccaminoso, quasi di sporco. Ma è proprio così? Forse basta uno sguardo alla scrittura per rendersi conto del contrario. Pensiamo alle tinte fortemente erotiche del Cantico dei Cantici, alle passioni amorose di Davide, alla seduzione di Ruth. Ancora di più, meditando le pagine del Nuovo Testamento, troviamo un Gesù tutt'altro che angelicato o insensibile. Ci vengono in mente i suoi dialoghi con la samaritana, con l'adultera o con la donna che unge i suoi piedi a Betania. Disintossicare l'Eros nel nostro contesto cristiano è uno degli obiettivi di questo testo, un piccolo itinerario tra Bibbia e morale per aiutarci a riscoprire la positività di questa forma di amore. L'Eros nella scrittura non viene mai banalizzato o volgarizzato, proprio perché è capace di disvelare quanto di più profondo abita nel cuore dell'uomo. Si può vivere senza Eros? A voi la risposta. Buona lettura. Grazie a tutti.